...porta il commissariamente in una banca, impoverisce il paese. Abbiamo perso decine e decine di milioni, quale c'è poi terzi sono andati in Italia, meno avversamente le ritornute sui depositi, meno utili dalla banca, e quindi buco di bilancio, o meglio, meno ritroito. La clientela perde fiducia nelle istituzioni. Pensate un po', ha perso prima fiducia nella chiesa, in parrocchia che nelle banche. Se continuiamo così, perdono fiducia anche nelle banche. Parlo di San Marino come un paese fuori gli italiani, i nostri azionisti, hanno detto io, Stefano, mi dispiace per te, ma io non metto più un soldo a San Marino. Questi nostri azionisti, tutti, chi produce tubi, succherane, marini, parlinhi, c'è chi è nel campo della moda, che veste le attrici, c'è chi è nel campo immobiliare, ha delle proprietà immense, e questi sono tutti testi di legno. Si perdono 50 posti di lavoro. Con BGS, quando ce l'hanno, ci hanno convocato per salvarla, 6 prevedibili contratti. Ne abbiamo presi 21. 21 ne abbiamo presi. Ma è l'operazione con il governo precedente. Grazie.